Bentornati in un nuovo video del canale. Quest'oggi la trattazione sarà più leggera del solito. Non ho nessun appunto, né ho intenzione di fare riflessioni di carattere politico-sanitario in merito alla situazione. Volevo semplicemente raccontarvi una storia. Più che una storia, un episodio, un aneddoto, che mi è accaduto l'altra sera. Dal titolo penso che già potrete sospettare qualcosa. Comunque la raccomandazione ne rente al periodo. L'altra sera ero in questo locale, al tavolo, tranquillo, facendo la mia serata. E a un certo punto la persona con cui ero si alza per andare in bagno. Perciò mi lascio da solo al tavolo. Mentre ero solo al tavolo, siccome io tendenzialmente quando sono fuori in compagnia, ma chi mi conosce lo sa benissimo, il telefono lo tengo offline o in modalità silenziosa, salvo rari casi di possibili, tra virgolette, emergenze, perché mi godo il momento. Il telefono poi lo uso quando sono per conto mio. Perciò stavo assaporando il mio calice di vino rosso, dato che è una delle mie passioni. E mentre stavo assaporando il mio vino, al tavolo a fianco al mio si siedono due signore. Due signore e... Ascolto ciò che dicono, dato che ero da solo con il mio bicchiere di vino, aspettando che tornasse il mio commensale. Ed era un po' che non si vedevano, a quanto pare. Al che, dopo... Dopo previ istanti, una delle due amiche, suppongo, chiede all'altra Ma allora tu le hai fatto il vaccino? A che l'altra risponde? Sì, sì, certo, mi sono vaccinata, perché l'ha fatta anche Chiara Ferragni. Ho avuto un sussulto. Ho avuto un sussulto interiore. Non ci volevo credere. Non ci volevo credere. Dentro di me ho detto Ma davvero? Ma sul serio? E il tutto sarebbe stato anche un filino attenuato se la persona in questione fosse stata una ragazzina, una teenager. Avrei potuto anche un filino più, diciamo, scusarla con lo scudo dell'ingenuità della giovane età. Ma una signora che sicuramente avrebbe potuto essere una madre di famiglia che dà una risposta del genere mi ha lasciato Non posso neanche dire al libido Dovrei coniare un nuovo termine per esternare la mia emozione in quel momento. Ero tentato di intervenire a chiederle una una delucidazione se fosse stata veramente quella la causa della sua scelta. Ma io dico ma io dico questa persona come tante altre purtroppo perché sospetto che non sia l'unica Ma voi avete preso una scelta in merito alla vostra salute su ciò che ha fatto un influencer su Instagram E la mia non vuole assolutamente essere una critica a Chiara Ferragni perché mi dissocio totalmente da tutte le persone che la ditano che guadagna troppo che sono sempre con una parola di critica sulla bocca nei suoi confronti ma io dico ha fatto la tanto criticata bottiglietta d'acqua Evian col marchio di Chiara Ferragni vendendola 8 euro perché l'ho vista con i miei occhi in aeroporto Buon per lei Nessuno è obbligato a comprarla Tutti che sento dire ah un'acqua che costa 8 euro solo perché è al marchio di Chiara Ferragni e non comprarla Ci sono anche un sacco di opere d'arte che costano addirittura centinaia di migliaia di euro per non parlare di milioni E a me personalmente non piacciono Io sono un acquirente di quadri spesso fatti a bomboletta per le strade delle città Da persone che a perere mio sono degli artisti che su un foglio A3 o A4 in qualche decina di minuti compongono davvero delle opere d'arte per ogni gusto soggettivo Tornando a Chiara Ferragni le danno l'ultima volta che mi ero informato dai 15 ai 20 mila euro post su Instagram Buon per lei Buon per lei Se ci sono persone disposte a darglieli sono convinto che quella pubblicità ha un riscontro dato che ha non pochi follower non poche persone che la seguono e di conseguenza trago un'ispirazione dal suo modo di vestire E fino a qua non c'è assolutamente nessun problema Tutti quanti ci ispiriamo qualcuno o qualcosa tutti siamo influenzati dalla moda In questo momento vanno le magliette con questo girocollo un attimo più tondeggiante poi tempo fa andavano più col colla V Va benissimo Va benissimo La cosa però che mi lascia libito senza aver ancora coniato un nuovo termine ovviamente è il fatto è il fatto che delle persone prendano delle scelte a livello sanitario su ciò che ha fatto un influencer di moda fondamentalmente Ma se quella signora avesse citato e ripeto non vuole essere una trattazione pro vaccino contro vaccino ho già fatto video dove espongo la mia posizione in merito che è totalmente neutrale ognuno deve essere libero di fare ciò che vuole però però c'è un però previa a parer mio un'informazione da una parte o dall'altra questa signora mi avesse citato delle eminenze nel campo della medicina ma le stesse case farmaceutiche andava ancora bene premi Nobel perché no ma davvero sentirmi citare un influencer di moda per una tua scelta sanitaria mi ha fatto mi ha fatto rabbrividire mi ha fatto rabbrividire spero che vi abbia un fino divertito questa questa storia io ho cercato di vedere dal punto di vista più sarcastico possibile anche se al momento ci sono rimasto e mi sono sentito mi sono sentito diciamo in dovere di di raccontare questa esperienza ma non tanto per l'esperienza in sé ma per trarre un insegnamento perché il messaggio che voglio mandare con questo video è di ragionare con la propria testa sì assolutamente vedere cosa hanno fatto amici parenti cosa dicono i medici le case farmaceutiche il governo il green pass e tutto quanto va bene va bene ok teniamone conto però poi dopo aver appreso aver assimilato tutte queste informazioni dobbiamo prendere la decisione e questo non solo in questo momento in ambito sanitario in merito al vaccino di conseguenza il green pass o la nostra posizione filosofica nei confronti di questa pandemia ma sempre ma sempre nella vita noi ogni decisione che prendiamo dovremmo sì tener conto del parere degli altri del consiglio degli altri tutto quanto ma poi dobbiamo prenderla noi dalla cosa più semplice del compresso in un paio di scarpe in un paio di pantaloni a dove andare in vacanza all'automobile ai locali da frequentare ok magari quel locale sarà più di tendenza rispetto ad un altro ma a me piace io voglio andare in quel posto ci sono ristoranti stellati dove mi è capitato di mangiare qualità del cibo impeccabile ammetto impeccabile però mi ero alzato ancora affamato e potrà sembrarvi una stupidata le persone che erano con me che magari vedranno il video se ne ricorderanno che poi ci erano fermati in autogrill a mangiare a mangiare un panino che veramente mi ha riempito questo è un esempio sciocco per per farvi riflettere davvero fate ciò che vi sentite ciò che sentite nel profondo non ciò che è giusto fare perché lo dicono gli altri per essere accettati socialmente anche perché spesso noi prendiamo delle decisioni semplicemente che vengono dettate dalle nostre paure che abbiamo nel profondo e in merito a questo argomento farò fare un altro video che ho in mente molto bello a parer mio concludo augurandovi davvero tutto il bene per questo periodo la più sincera positività che io possa trasmettervi anche semplicemente tramite etere fondamentalmente la trasmissione di queste di queste informazioni e spero di rivedervi presto sul canale della nuova realtà un abbraccio grazie a tutti Grazie a tutti